Buongiorno, ben trovati al salotto acquatico di Swim Biz, oggi siamo a Ostia e non è un caso al bar, bar Morini insomma, ormai qua tutto tuo Bar del centro federale Bar del centro federale, te la stai prendendo comoda, rilassata insomma Beh no, sto facendo gli allenamenti, sto facendo degli esami a futuri allenatori Un Murini, un Murini multitasking, stavi nel Murigno no? Un Murini multitasking No, no No, e si, fai pure il docente Beh come tutti i miei colleghi, Cese L'importante è che non ti vediamo in acqua come master No, i master sono una bella categoria ma non sono di mia competenza Ne approfitto perché ho una maglia qui, io non lo abbandono che è la maglia che è stata fatta da Maria Marconi per sostenere i nostri amici a quattro zampe, tu ne hai più di uno Io condivido in pieno, anzi se la Marconi me ne fa avere una Questa è dedicata a Cristiano e questa è la Io sono, gradisco e me la metto perché io ho due cani, due cani, una femmina labrador e un maschio misto fra un labrador e un aschi Quindi capisci insomma che tu siano gli amanti degli animali e dei cani soprattutto Sono ormai della famiglia Senti invece andiamo sul tecnico, si parte, si va a nord Europa, lì in mezzo alla tundra danese, che succederà? Andiamo lì e andiamo a vedere queste gare in vasca corta Abbiamo finito questo ciclo invernale come fine aveva un unico scopo di cercare di migliorare la tecnica Speriamo di aver centrato tecnica e virata Speriamo di aver migliorato qualcosa Abbiamo fatto degli allenamenti molto più tranquilli, soft, per iniziare poi da gennaio a lavorare sui grandi volumi Che poi ci porteranno a febbraio in altura e poi a Berlino La corta rispetto alla lunga è un po' giocare la Coppa Italia con la Champions, tu che sei un grande esperto di calcio No, io sono un grande esperto di calcio perché io tifo una grande squadra che una volta ha vinto tutto, che è all'Inter Non è di Livorno? Sono anche di Livorno Mi cogli impreparato? Ah ho capito perché adesso ci sarebbe il nuovo... Livorno è la squadra del cuore, come la città del cuore L'Inte però è la squadra della Serie A che da bambino, quando ero bambino tanti anni fa ho cominciato a conoscere e apprezzare Anche grazie a Picchi che era un grande Livornese Nicarobà, da poco, però sei d'accordo sul paragone? Coppa Italia, Champions 25-50? No, 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 tutti gli appuntamenti quando partecipiamo devono essere onorati al meglio E anche questo, vasca corta, vasca lunga, sempre cercare di fare il meglio, il meglio nelle condizioni in cui siamo Dopodiché finite gli europei, si va a Riccione? Dopodiché si va immediatamente a Riccione, si fa l'ultima gara della stagione 2013 E poi tutti a casa del Moro a festeggiare? Poi andiamo un po' a festeggiare a casa mia e poi ritorniamo qui dopo l'ultimo dell'anno Per iniziare effettivamente a lavorare, a lavorare bene, cercare di crescere nel volume e nello stesso tempo anche nell'intensità Grazie, grazie, siamo molto gentili Come sempre, io sono gentilissimo sempre, soprattutto con te, perché sei un vecchio torinese che non ti fa Juventus Perché io principalmente Sono un Granata vecchio Io aspetto sempre comunque l'invito a casa per mangiare caciucco Quando vuoi, quando vuoi ti faremo fare una bella cena di caciucco E ci vediamo in Danimarca, mi raccomando Viene anche da noi a Danimarca Se riusciamo a prendere magari un aereo, perché sembra che ci sia un po' di problemi con gli aerei Andare e venire, poi in questo paesino, mica è Ostia Earning, come si chiama quello? No, no, è un bel posto Sono due anime Alla prossima con Swimbit Ciao Ciao Ciao